In poche ore l'isola Dischia è passata dalla storica nevicata dell'altro ieri alla straordinaria mareggiata odierna. Bellissimo è lo spettacolo che in queste ore il mare in tempesta offre nell'antico borgo di Schiaponte, con le onde che si infrangono sugli scogli posti ai piedi del maestoso castello aragonese. Non mancano però i disagi per i residenti e i commercianti della zona a causa del manto stradale coperto da un folto strato di alghe e dell'allagamento del piazzale aragonese completamente invaso dall'acqua del mare per la mancanza di scogliere a difesa dell'abitato, che nei decenni, nonostante i proclami elettorali, non sono state mai realizzate. Per le cattive condizioni meteomarine gli aliscafi sono ancorati nei porti e da qualche ora solo le navi garantiscono i collegamenti con la terraferma. Grazie a tutti.